Passiamo ora alla prosecuzione della nostra agenda con il panel su Milano che abbiamo posticipato, abbiamo dovuto anticipare questa cerimonia degli honorary members per esigenze di orario di alcune persone e quindi chiamo sul palco l'assessore Cristina Taiani, il dottor Pietro Bassetti, Mario Poselli, Claudio Lutti, il moderatore Severino Salvemini. Allora la tavola rotonda dell'inizio di questa mattina si chiama Milano un rilancio possibile e non è solo un'esortazione di alta gamma perché è un aspiccio dell'intera città, almeno della parte più attiva della città, della parte più creativa. Se Milano qualche volta ci sembra un po' malata, magari vediamo poi dopo di toccare alcuni punti che potrebbero essere migliorati, la salvezza sicuramente dobbiamo trovarla tutti insieme e se non ce la fa Milano sicuramente non ce la fa nemmeno l'Italia. Perché Milano? E perché Milano è così collegata al tema della creatività? Se andiamo a prendere una serie di ricerche che sono state fatte negli anni passati, anche di carattere internazionale, vediamo che al di là dell'approfondimento di una serie di settori creativi ci sono una serie di criteri che ci dicono quanto la città diventa una città attraente dal punto di vista dei talenti creativi. E queste caratteristiche Milano ce l'ha, ha una caratteristica multietnica, ha una caratteristica di solidarietà perché ha molto non profit, è molto orientato ai generi, è una società che è attenta alla tecnologia e queste cose sembrano essere degli elementi che rappresentano un crocevia importante, un incrocio importante per la contaminazione delle famiglie professionali più innovative. Milano è anche piena di luoghi, proprio di luoghi fisici, di meticciato, di contaminazione, di fertilizzazione incrociata tra una tribù creativa e un'altra tribù creativa che voi sapete anche storicamente, andando a vedere la Milano degli anni 50, la Milano degli anni 60, essere uno degli elementi più importanti per far nascere delle cose veramente innovative. Dal punto di vista dei dati, se noi prendiamo la popolazione attiva italiana, vediamo che in Italia la percentuale dei cosiddetti lavoratori creativi è intorno al 16%, Milano ha invece il 33%, quindi ha una percentuale di lavoratori che sono orientati ad un'offerta evocativa, ad un'offerta simbolica molto alta. E la cosa interessante è che i milanesi questa cosa lo sanno, perché poi quando in città ci sono delle manifestazioni creative, i milanesi corrispondono, perché se andiamo a vedere Mito, se andiamo a vedere Book City, se andiamo a vedere Jewish and the City recentemente, se andiamo a vedere Milano Golosa, poi queste sono manifestazioni che sono effettivamente molto frequentate. Le tribù creative sono tante, qui sono rappresentate prevalentemente la moda, il design, abbiamo sentito anche col maestro Marchesi l'enogastronomia, ma Milano ne ha tante, ha l'architettura, ha i cartoni animati, ha i videogames, ha la musica, di cui è assolutamente capitale italiana, le arti, l'editoria, il teatro, la biomedica, l'informatica, l'università che nessuno cita, ma ricordiamoci sempre che nove università in città sono un elemento assolutamente esemplare di creatività e questo per toccare solamente quelle industrie che possono essere chiamate inizialmente creative, però come tutti sappiamo anche le industrie manufatturiere più convenzionali, più tradizionali ormai hanno interesse ad interiorizzare nel proprio manufatto degli elementi simbolici, quindi la creatività non è che sia confinata solamente nei momenti dell'innovazione creativa. Un problema che noi abbiamo, e vengo poi subito agli ospiti, è che Milano è una città un po' sottovalutata, o se mi permettete il termine, un po' sottodignificata, il che vuol dire che fuori, non solo fuori dai confini, sicuramente questo avviene, ma anche addirittura fuori dalla città, ci considerano un po' di più di quello che effettivamente noi pensiamo di essere. Una serie di libri scritti recentemente di saggi, penso al libro di Salvatore Carruba, penso ai libri dei giornalisti Offeddu, Alfieri recentemente, ci dicono che se noi intraprendiamo un viaggio in questa città, questa città è una città che è cambiata molto in questi ultimi anni, anche se a volte non lo sappiamo. È una città che è un po' insofferente, in particolare nei salotti buoni, è una città che è un po' tafazzista ad oltranza, i primi a non riconoscere la leadership siamo proprio noi milanesi, c'è molta nostalgia del tempo d'oro, qui guardo il dottor Bassetti che sicuramente è stato un testimone, un protagonista di quella Milano che abbiamo chiamato Capitale Morale e che a volte magari mitizziamo anche un po', sicuramente ha costruito il modo di pensare di tutti noi, però abbiamo nostalgia di quella Milano un po' Lib Lab che era protagonista di un riformismo illuminato che magari oggi vediamo poco e sempre per citare Carruba, lui dice è una Milano sospesa tra un passato che non rinnega e un futuro che non riesce a decifrare. Ecco questa situazione di impotenza ci sembra che in questo momento, un po' perché forse abbiamo voglia di vedere questa famosa luce alla fine del tunnel, ci sembra che ci sia un piccolo rimbalzo, un piccolo rilancio di questa capitale culturale. Sì c'è Expo, però vorrei non parlare solamente di Expo, sicuramente ci sono altre cose, è vero che tutto sta emergendo come qualcuno sostiene con un po' di fatica perché mancano i mezzi, perché ci sono gli intoppi burocratici, perché c'è comunque un orizzonte di breve termine, perché non ci sono i progetti visionari, quello che il Presidente Illy chiama i progetti magnifici. A volte fatichiamo a vedere una regia top down e invece questa regia non si incontra con uno spontaneismo magari bottom up un po' velleitario, però ci sembra che ci sia qualche rimbalzo e questo rimbalzo sicuramente lo possiamo vedere qua, che mette insieme delle aziende che sono delle aziende abbastanza trasversali, che quindi possono cogliere, possono osservare questo segnale trasversale della creatività e dell'eccellenza. Sono aziende che si occupano di estetica, di contenuti simbolici e che quindi possono immaginare di condividere un progetto collaborativo di branding. Quando parliamo di branding e adesso sentiremo i protagonisti non è solo un ritorno ad esperienze che magari sono state fatte più o meno positive di ripensamento del logo, dei gadgets, dell'immagine. Qui stiamo parlando di rivedere, riconsiderare il patrimonio cognitivo dell'immaginazione del benfatto di Milano e quindi ridare consapevolezza se non c'è ancora alle cose che effettivamente ci sono in città e poi dopo comunicarlo. Ovviamente il processo di valorizzazione di Milano parte da lontano, non inizia certamente oggi 28 di ottobre, però è giusto ogni tanto fare il punto, è giusto consolidare ciò che è stato fatto, è giusto magari riconoscere anche degli errori o delle scelte approssimative che sono fatte fatte nel passato e provare a rilanciare il viaggio in questo momento che è un coordinamento della creatività. E vorrei cominciare dall'assessore Cristina Tajani che è assessore alle politiche del lavoro, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca. Le altre deleghe sono poco, tutto quello che c'era. Ecco assessore, ma perché rilanciare Milano? Cioè qual è il punto di svolta del momento per cui a un certo punto ci troviamo qui a immaginare un progetto comune insieme? Io credo che il ragionamento su Milano debba essere anche situato nel contesto più complessivo nazionale perché Milano è sempre stata una città in relazione, in relazione col paese e con alcune funzioni, veniva citata prima la questione della capitale morale, ma anche in relazione all'Europa. Noi veniamo da una fase lunga purtroppo di crisi economica che non ha risparmiato Milano, sicuramente il nostro territorio l'ha vissuta in maniera diversa e con indicatori occupazionali e di performance economiche comunque migliori che in altri luoghi, in altre aree del nostro paese. Ma la crisi ha segnato, ha segnato ma anche risvegliato le motivazioni per cercare nuove opportunità. Io credo che la nostra presenza qui oggi è la collaborazione che si manifesta anche visivamente con importanti associazioni che rappresentano settori produttivi molto significativi per la città insieme alle istituzioni rappresentano il fatto che dentro la crisi alcuni soggetti, alcuni attori della città trovano le ragioni per cooperare, per darsi una piattaforma non di breve respiro ma di respiro medio-lungo che sicuramente arriva fino all'Expo ma lo traguarda anche, rivitalizzando alcuni fattori, alcune capacità sottostimate o trascurate della città che la rendono città in grado di competere non soltanto nel panorama nazionale ma nel mondo. La vocazione di Milano è sicuramente una vocazione europea è una vocazione ad essere inserita nelle reti lunghe della competizione globale ed è questo il suo posto e il suo ruolo. Io credo che l'ente pubblico in una fase in cui la ristrettezza delle risorse e quindi la crisi dei bilanci pubblici nazionali e locali di conseguenza gli consegnano un ruolo diciamo di coordinatore, di facilitatore di processi, abbia il dovere oggi di far emergere e di interpretare quello che è di spontaneo già la realtà milanese e la società economica e sociale diciamo la realtà economica e sociale è in grado di fare, di rappresentare e che però viene ancora poco interpretata. Quindi il ruolo che noi ci siamo assegnati in accordo diciamo con gli attori che sono oggi seduti qui di fianco a me è quello di facilitare alcuni processi che hanno però già nella realtà diciamo territoriale la capacità di darsi. Sicuramente il tema di una cooperazione nuova tra ente pubblico e attori privati è al centro del ragionamento che stiamo facendo oggi in grado di reinterpretare il ruolo di Milano per sé e quindi per i propri cittadini diciamo per il proprio territorio ma per il paese e per il mondo anche in vista di un appuntamento importante come Expo che sicuramente è un'occasione diciamo anche di ripensamento del ruolo della città di valutazione delle forze in campo di quello che è possibile fare. Veniamo indubbiamente da anni di difficoltà in cui ad un certo punto è sembrato che la città avesse un po' smarrito diciamo il suo senso e la sua vocazione. Io credo invece che oggi ci siano segnali di una riscoperta motivazionale, vocazionale di quello che Milano può fare. Pochi giorni fa abbiamo presentato a Bologna io non amo i ranking ma a volte sono utili, l'indice delle città italiane più smart, più intelligenti oggi si parla spesso di smart cities come città che sono capaci di utilizzare le nuove tecnologie per offrire servizi più efficienti e anche più equi diciamo più inclusivi. Milano negli ultimi due anni è salita di molto diciamo in questi ranking e prima per smart economy sottolineando appunto una capacità anche all'innovazione economica che ha a che fare con il tema del sociale diciamo della sussidiarietà di quello che anche lei diceva prima e prima per smart mobility è in crescita su molti altri indicatori. Io credo che ci siano appunto i segnali di una nuova consapevolezza ed è il nostro compito appunto farla emergere diciamo aiutare. quello che si diceva prima è proprio che l'offerta simbolica e l'offerta diciamo di alcune cose che possono essere importanti per attrarre i talenti creativi c'è a Milano, non è che non ci sia forse manca la consapevolezza e forse manca la comunicazione e anche proprio andando a vedere i ranking se noi fossimo un po' più incisivi nel momento in cui comunichiamo queste cose all'estero magari i nostri ranking milanesi potrebbero essere con maggiore priorità rispetto a quello e questo è parte del progetto diciamo di cui parliamo oggi. Certo, il padrone di casa oggi è il presidente di Altagamma Andrea Illi le aziende Altagamma sono delle aziende che passano dalla moda al design alla velocità all'alimentare quindi c'è un punto di osservazione veramente trasversale su questo tema della creatività. Ecco, come vede il presidente di Altagamma Milano e perché è così importante la rinascita di Milano per l'Italia? Bene, qualcosa ho già detto nel mio discorso introduttivo quindi non voglio ripetermi posso soltanto aggiungere che il progetto su Milano è nato da uno stimolo di Claudio Luti quando era ancora presidente di Altagamma e il suo stimolo è stato bisogna fare qualcosa per Milano e bisogna anche contribuire alla ripresa economica del paese e quindi abbiamo fatto un lavoro, uno studio, abbiamo fatto uno studio con l'università Bocconi dalla quale siamo andati a vedere qual è la performance dell'industria di Altagamma rispetto al resto dell'industria e a capire se c'era effettivamente qualcosa di buono da sfruttare e ne è venuta fuori che la performance dell'industria del bello in generale insomma non necessariamente quando dico Altagamma si conduce ai soli soci della fondazione ma tutto il mondo è Altagamma, tutto il sistema quindi le esportazioni sono il doppio l'occupazione è qualcosa come 15 volte tanto l'esportazione in diretta è 4,5 non parliamo poi, insomma sono delle aziende che crescono e che performano è l'Italia che funziona alla forte di questi numeri come ho già detto ci siamo proposti alle istituzioni come partner ma non siamo andati dalle istituzioni come dei questuanti a lamentarsi di cosa non funziona a fare delle richieste ma siamo andati a dire noi possiamo aiutare, date un contributo metteteci in condizione di dare un contributo ed è con questo spirito che è nato il programma della mia presidenza questo programma della mia presidenza che naturalmente punta al nocciolo della questione che è la competitività delle nostre imprese e solo indirettamente al dare un contributo positivo all'economia italiana ma lo fa in virtù del fatto che nessun ambasciatore è più efficace dei marchi di eccellenza in giro per il mondo perché nelle strade del lusso si vedono i marchi, si vedono i negozi e nei pranzi, nelle cene, nelle occasioni conviviali si vedono i bellissimi vestiti, i bellissimi accessori di firma di griffia italiana fuori dagli alberghi si vedono le bellissime automobili in tutto il mondo del bello è rappresentato da queste sono questi gli ambasciatori allora è in virtù di questo che riteniamo che ci sia un'occasione di forte rilancio ecco Milano, l'ho già detto prima ha questa vocazione storica di essere in qualche misura la vetrina, il mercato, la piazza, la porta se vogliamo dirlo con parole anche le più diverse dove tutta la creatività diffusa dell'Italia si concentra quindi su questo bisogna insistere perché come giustamente è stato osservato la creatività non è solo moda, design, la tavola ma è l'ospitalità, ma c'è la cultura ci sono tanti altri elementi, patrimoni di creatività e di bellezza italiana che dovrebbero essere rappresentati in altrettanti importanti eventi quindi è nata così una visione di Milano per il suo rilancio che fosse olistica alla olistica prima di tutto dallo smettere di fare contropubblicità perché gli italiani sono i campioni della contropubblicità quelli che fanno la peggiore pubblicità a livello sia nazionale, locale, internazionale dell'Italia siamo noi stessi e quindi siamo incapaci o siamo stati incapaci auspico fino ad oggi e da domani non più se dovessi dire che è un sogno questo sarebbe il mio sogno di valorizzare quello che abbiamo e a Milano c'è tutto c'è tutto e il secondo tema è quello della complessità il sistema internazionale mondiale, mercati mondiali basta guardare qualsiasi grafico sono cresciuti negli ultimi decenni in maniera esponenziale e altrettanto esponenziale è cresciuta la complessità ecco è molto importante per chi si occupa più o meno direttamente di complessità saprà che l'unico modo per affrontare la complessità è quello di aumentare il livello di collaborazione e coordinamento altrimenti non si va da nessuna parte allora questa cultura tipica italiana dell'individualismo io ho comparato l'Italia al gioco che facciamo da bambini lo Shanghai dove ci sono tanti bastoncini che sono messi uno sopra l'altro e se solo cerchi di toccare un bastoncino e tocchi gli altri perdi un giro non combini niente quindi questo è un tema che rende molto difficile il coordinamento sia esso diciamo top down che bottom up io credo che questa collaborazione e coordinamento per valorizzare quello che abbiamo non abbia bisogno di legami forti bastano dei legami deboli tra i vari enti che sono coinvolti e questi primi quattro che si radunano qui oggi fanno in qualche misura da apripista e se funzionerà avremo poi diciamo molti altri soggetti che si aggregeranno a questo movimento che vogliamo creare per Milano e da Milano per il resto dell'Italia ecco questo è il tentativo che stiamo facendo e quindi l'idea del rebranding della città è dare per la prima volta qualcosa che Milano non ha avuto mai cioè pensate immediatamente Parigi Tour Eiffel New York La Mela Londra ha un'immagine fortissima tutte queste città hanno avuto un impegno importantissimo sia istituzionale che privato di marketing territoriale questo va fatto a Milano ma non può che essere fatto in una partnership con il pubblico e il privato e questo è quello che stiamo cercando di fare Presidente Illy onde evitare che tutti immagino che questa qui sia una messa cantata che ce la siamo preparata tutta e volevo fare una domanda su una una cosa che ho letto l'altro giorno su un magazine Alta Gamma in un certo senso è l'azienda del dettaglio cioè la massima raffinatezza è proprio sul dettaglio cioè il diavolo del dettaglio allora il caso che le racconto e vorrei la sua reazione di getto è questa ad Abu Dhabi l'altro giorno il ministero degli affari esteri il ministero dello sviluppo economico organizza una cena promozionale per presentare i prodotti italiani prevalentemente i prodotti agroalimentari ma non solo anche i prodotti di moda e di design ci sono 130 aziende italiane alla conferenza ci sono 300 imprenditori e poi dopo come capita in queste occasioni c'è tutto il momento del catering e della cena e al momento del catering e della cena vengono presentate le prelibatezze enogastronomiche italiane e viene servito vino australiano e allora ne vogliamo parlare certo questo è quello che si dice fare o non fare sistema c'è Matteo Lunelli che è il vicepresidente per l'alimentare in sala quindi mi correggerà se sbaglio magari poi farà un intervento il vino italiano non riesce a fare sistema sono credo 300.000 i produttori di vino in Italia hanno un'opportunità di internazionalizzazione che è sconfinata non parliamo di quello che succede in Cina che è il mercato emergente dei consumi di vino dove i francesi hanno una quota di mercato direi quasi totalizzante e gli italiani nulla perché questo? perché quando proponi agli italiani di superare il loro limite distributivo a livello internazionale perché non c'è una filiera distributiva a livello internazionale di mettersi assieme non ci si arriva mai quindi lei sta parlando di un fenomeno che ha esattamente la stessa causa in comune rispetto al tema di cui discutiamo oggi di Milano e io se posso dare questo tipo di messaggio come come presidente di Alta Gamma è quello collaboriamo a tutto campo collaboriamo cooperiamo e coordiniamoci bene quindi detto adesso che abbiamo difficoltà a fare il sistema non lo diciamo più perché tanto comunque è una delle cause storiche per cui ci ritroviamo qui e affrontiamo magari delle altre cose Cavaliere Boselli presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana la moda italiana e in particolare Milano è cioè a Milano nasce il pret-à-porter che al di là poi del nome purtroppo francese è una concezione tipicamente italiana di coniugare diciamo l'estro la creatività della Maison invece con la serie e quindi elemento che poi dopo ritroviamo anche nel design ritroviamo poi nella logica dell'industrializzazione della creatività quindi gli italiani i milanesi sono stati particolarmente bravi nella capacità di coniugare il prototipo con la serie prima dicevamo ci sembra di cogliere dei segnali nuovi dei segnali positivi sicuramente il segnale che tutti hanno colto è che minacciata da Londra Parigi da New York e anche da altri contesti tipo Anversa per i creativi e così via Milano nelle ultime sfilate ha reagito molto bene quindi cambia il vento cambia il modo di fare assolutamente sì credo che se noi compariamo come è stato giustamente osservato Milano Modadonna di febbraio con Milano Modadonna di settembre è cambiato il mondo per noi c'è una data che è di scrimine del prima e del dopo 17 aprile 2013 quindi non molto tempo fa quando i grandi della moda hanno deciso di metterci la faccia e i quattrini cosa che per molti anni prima non avevano fatto cioè c'era la camera della moda queste aziende erano anche associate mandavano dei manager bravissimi qualificatissimi ma non c'erano loro e quindi era un organismo che era lì sì serviva ma va bene ma che cosa li ha spinti a metterla a fare allora la storia poi è stata detta 10 di gennaio Patrizio Vertelli viene da me dice va male tutto non funziona Milano non funziona la moda Milano non funziona la camera della moda o ne facciamo una nuova oppure dovete cambiare io ho detto pronto però a due condizioni che voi venite che voi mettete i soldi quindi come diceva l'assessore ci vuole la crisi ci vuole la crisi morda per cambiare do due dati però perché sono importanti questi signori sono tutti nel consiglio sono stati eletti e nel segreto dell'urna hanno avuto il massimo dei voti che vuol dire un bel segno anche perché questi signori vengono al secondo punto arrivano a pagare le aziende più grosse l'anno venturo pagheranno l'anno venturo 2014 250 mila euro cada cranio anziché alle 26 mila del 2013 contando un voto come la piccola azienda che paga 5 mila euro segno anche di grande maturità quindi devo dire tutto bene benissimo allora prendiamo questo esempio per parlare di Milano quando parliamo di contenuti del software le cose si fanno anche alla svelta noi in sei mesi siamo riusciti a far percepire al mondo che stava cambiando qualche cosa anche se i soldi non li avevamo ancora avuti li avremo nel 2014 se l'amministratore delegato non è ancora in carica quindi l'ha fatta la vecchia struttura ma la percezione è cambiata e siccome si corre in aiuto del vincitore da Anuintur a voga è venuto e si è sprecato a dire che non hanno mai voluto male a Milano falso l'ho detto anche se sono felice che abbiano cambiato idea e quindi questa è la verità quindi questo è un momento magico non solo per la moda ma anche per fare quel famoso coordinamento creativo di cui parlavamo sì allora su questo con Illi con Lutti con Bassetti soprattutto direi col nuovo corso di questo assessore che ha aiutato molto il nuovo corso di un accordo fra di noi perché un facilitatore ci vuole e lei ha cambiato i rapporti con il sindaco oggi noi abbiamo un rapporto con l'amministrazione comunale intermediato da questa signora che non abbiamo mai avuto prima e quindi si conferma che le gambe degli uomini o delle donne fanno andare avanti le cose vorrei se ho ancora un minuto assessore si aspetti qualche richiesta no 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 ma noi abbiamo un accordo molto leale ci diciamo le cose se ho ancora un minuto volevo dire una cosa che mi pare importante voi avete giustamente citato due cose voi avete citato delle città che sono New York Londra Parigi di mezzo c'è Milano nella scaletta delle Fashion Week amici cari ma ci siamo chiesti le dimensioni di questa realtà due sono capitali Parigi e Londra New York è più di una capitale Milano è una bomboniera io cito sempre quando vado da una parte all'altra della Certe dei Navigli ci metto allo stesso tempo di attraversare un arrondissement di Parigi e se non ero sono 18-20 la potenza di fuoco di Milano è diversa e se non si parte da questo dato di fatto non andremo da nessuna parte quindi noi per la strategia di Milano parlando dell'hardware della struttura dobbiamo operare con una unicità che parta da questa considerazione quindi essere la capitale del bello ben fatto italiano che vuol dire made in Italy che vuol dire la vetrina del made in Italy Milano moda uomo e Milano moda donna sono così perché il 90% sono aziende italiane contrariamente a Parigi dove i marchi francesi sono meno del 50% dobbiamo essere orgogliosi di questo e operare in questo senso la Camera della Moda è pronta abbiamo mandato al Comune un po' di documenti dal titolo Enjoy Milano che sono dei suggerimenti sulle cose da fare a Milano perché grande non può diventare ma diventi eccellente grazie dottor Lutti presidente Cosmit il design e il salone del mobile è sicuramente un segno forte e longevo di una città aperta abbiamo sentito Enjoy Milano sicuramente in quella settimana c'è molto enjoyment sia di tipo commerciale di business ma anche di tipo estetico ecco io credo che quella sia la settimana questa è un po' una critica personale per esempio all'ambiente della moda credo che quella sia una settimana dove Milano riceve un pubblico veramente internazionale di grandissima levatura cioè lo si vede lo si vede in giro c'è proprio la gioia di vedere Milano diversa dalla contaminazione di un pubblico internazionale so che questa cosa le crea anche un po' di problemi in termini di coordinamento ma quali sono le opportunità quali sono le minacce perché questo evento rimanga così chiave per la Milano prospettica ma in primo luogo sottolineo tutto quello che è stato detto fino adesso sono d'accordissimo d'accordissimo con Illy con l'assessore e con il mio amico Boselli non parlo più di sistema hanno già detto tutti penso che la bomboniera debba darsi questo sistema per poter competere con le altre grandi capitali per quello che riguarda il sone del mobile noi abbiamo la fortuna di essere leader nel mondo siamo leader non siamo sotto attacco nella sostanza non siamo sotto attacco nella sostanza perché non è soltanto il contenitore che funziona o funziona meglio o funziona peggio dietro questo contenitore ci sono le aziende ci sono le imprese c'è la filiera nessun altro a queste imprese è questa filiera quindi siamo in una situazione veramente di vantaggio reale non c'è la Francia che fa marketing c'è la Germania che fa sistema l'Asia a prezzi bassi ma la qualità dell'arredamento di tutta la filiera si trova solo in Italia e si trova poi non solo a Milano ma Milano la rappresenta perché Milano ha il sone del mobile salone che obbliga praticamente tutti gli operatori di questo sistema a venire a Milano abbiamo delle cifre pazzesche 330.000 visitatori abbiamo 160 paesi abbiamo migliaia di persone che vengono 10.000 dalla Russia 9.000 dal Brasile abbiamo veramente già un contenitore che funziona a questo punto tutti quelli che possono essere dei cloni del sone del mobile non avendo dietro la sostanza cosa fanno? Ci attaccano con il marketing la comunicazione creano tutti hanno capito che dietro il design dietro si crea valore e quindi tutti creano la capitale della creatività pur non avendo quasi dietro le aziende e quindi abbiamo New York che il sindaco Bloomberg si inventa da un momento all'altro di creare la settimana a New York mettendo insieme le gallerie d'arte con i grafici con i negozi con delle fiere che non funzionano con tutto quello che ha da giocarsi Londra fa il festival grandi cene famiglia reale una situazione di progettazione di accoglimento fantastico in tutti questi luoghi magari con anche qualche italiano che fa anche sfoggio di creatività Parigi è sempre stata la più brava a fare marketing e poi Istamo Beijing Tokyo l'altra settimana si è inventato un nuovo sistema e noi cosa possiamo fare dobbiamo rimanere assolutamente leader dobbiamo usare le imprese che sono le più brave nell'usare la creatività di tutti i design del mondo perché vogliono venire tutti a lavorare con le imprese italiane perché gli imprenditori sono molto capaci di relazionarsi con i creativi e si prendono questi rischi di fare innovazioni continue e questo non ce l'ha nessun altro però cosa possiamo cambiare possiamo migliorare possiamo migliorare in quello che facciamo male marketing comunicazione e sistema accoglimento Milano è piccola però devi imparare in queste due situazioni una mi riallaccio al discorso del sistema con l'assessore con Milano con la partecipazione di tutta Milano in questa settimana che deve assolutamente dare il meglio di sé deve presentarsi al meglio non possiamo dal momento in cui la gente arriva all'aeroporto al momento in cui va in giro per Milano da come gestire il traffico da come gestire il costo degli alberghi la ristorazione tutte queste cose che forse vanno bene anche per la settimana della moda per noi sono assolutamente stranecessari e sono anche e saranno necessari ancora di più quando faremo l'expo fra due anni volevo chiederle però una cosa cioè la vostra caratteristica che è stata segnalata anche in moltissime ricerche urbane è proprio quella di riuscire a tenere insieme il dentro e il fuori adesso arrivava che arrivava va bene no sicuramente in un'altra cosa dove possiamo migliorare dove siamo praticamente attaccati dai media in giro per il mondo è che tutti ci dicono che abbiamo pochissima coordinazione fra il Salone del Mobile che funziona molto bene mentre il fuori salone essendo un movimento spontaneo non è organizzato e non è comunicato nella giusta maniera tanti giornalisti che magari vengono da decine d'anni a vedere il Salone del Mobile mi incolpano di non aver coordinato il fuori salone non sanno che io non ho nessuna sono un po' pigri vogliono tutto ordinare no no vorrebbero sapere qual è il giro che devono fare vorrebbero sapere come muoversi a Milano vorrebbero e non hanno assolutamente realizzato che Milano è stata la prima avere questo movimento spontaneo di portare creatività in diversi quartieri della città e rendere Milano così viva e molte delle stesse aziende che di giorno fanno business al Salone del Mobile alla sera partecipano poi a questo grande evento con eventi particolari io ho sempre detto che il Salone del Mobile è assolutamente necessario per incontrare e per fare veramente business mentre Milano va vissuta quella settimana con un altro spirito e va vissuta con creatività emozione e quindi tutti possono partecipare e mi domandavo proprio che all'interno di questa nostra idea adesso di fare un po' più sistema con l'assessore e con il sindaco e con le altre forze di Milano forse dobbiamo sforzarci oggi diventa anche un momento dove il digitale è molto importante diventa un momento dove noi per esempio stiamo facendo un sito nuovo per andare incontro a questi nuovi strumenti c'è tutto questo fermento e forse a questo punto saremo costretti a prenderci un po' di responsabilità anche per cercare di dare più coordinamento credo che queste possono essere le cose che dobbiamo fare dobbiamo sforzarci e poi il nostro sistema è quello di aiutare tutte le aziende a internazionalizzarsi e quindi andare in giro per il mondo a portare i nostri bei prodotti grazie presidente Bassetti lei è un osservatore di lungo corso nel senso che la ricordiamo come presidente della prima regione Lombardia la ricordiamo come assessore comunale per molti anni come presidente della camera di commercio come parlamentare diciamo momenti come questi di snodo di flesso di rilancio di un progetto eccetera ne ha visti parecchi ne ha pilotati parecchi ecco come la vede adesso Milano senza andare nella nostalgia del tempo che fu ma diciamo quali possono essere dei consigli delle esortazioni per far sì che questo progetto di reale coordinamento creativo possa essere un progetto concreto possa essere un progetto che morde sulla città ma se mi avesse chiesto questo stamattina avrei dato una risposta leggermente diversa da quella che le do adesso perché ritengo che se il tema è il rilancio di Milano beh io credo non ho dubbi su questo che stamattina è una di quelle di quelle linee di di stacco importanti da segnare ecco quindi io credo che il rilancio di Milano è sicuramente possibile perché siamo non perché siamo milanesi e abbiamo fiducia in noi stessi nella nostra storia eccetera ma perché l'evidenza dei fatti lo dice sono oggi come ieri convinto che la condizione del rilancio è la scelta dell'organizzazione giusta del nostro lavoro no che non è quella di affidarsi a qualche demiurgo no e non è neanche quella di affidarsi scusate l'espressione al casino generalizzato noi dobbiamo trovare questa dimensione che è il problema di Milano lungo tutta la sua storia no di come si raccoglie le sue capacità di espressione dimeticiato come lei diceva giustamente di Midland no in una causa in un obiettivo ecco io credo che in questo momento la storia la storia delle economie occidentali e soprattutto della glocalizzazione ci sta indicando una strada che qui stamattina si vede sta avvenendo nel mondo una rivoluzione industriale qualcuno ha parlato di terza rivoluzione industriale al centro della quale non è più la divisione del lavoro e quindi l'alienazione ma la creatività e quindi la sintesi c'è un bel libro che è centrato sul termine fare è connettere quando tu dividi il lavoro dividi l'uomo ecco allora la creatività è una condizione operativa e anche esistenziale che non è facile da coltivare allora lei prima faceva riferimento io ricordo benissimo la Milano da bere io non ci ho mai creduto perché il problema era chi beveva no? ecco cioè chi beveva Milano oggi invece stiamo scegliendo io prima facevo riferimento ad una storia un po' prima della Milano la storia del piccolo teatro degli anni 60 ecco certamente che allora il Kennedy cioè quel tipo di dimensione però era stato diciamo declinato male nel senso e lì di fatti abbiamo visto dei branding che sono stati un fallimento da quello vino strano che era un tentativo fino appunto alle magliette di Milano abbiamo visto il panettone che ha rivisitato fatte in Thailandia ecco allora che è un po' il problema del vino australiano allora dicevo invece la creatività è in se stessa finalizzata a qualcosa e qui oggi la storia ci aiuta perché ci propone come destinatario come audience della nostra creatività il mondo no e tra l'altro nel mondo ci offre una nicchia estremamente interessante ecco perché che riscatta per esempio il contenuto di privilegio del lusso no invece fa della bellezza uno strumento di arricchimento quindi voglio dire rompe la difficoltà di dire ma inseguiamo il privilegio no noi non inseguiamo il privilegio noi inseguendo la bellezza inseguiamo qualcosa che dobbiamo sapere offrire al mondo così come dovremmo sapere offrire al mondo una proposta per nutrire il pianeta energia per la vita che è la sfida dell'Expo quindi lei è un po' scettico sul termine lusso sull'uso comunicazionale il termine lusso se uno ci pensa contiene in sé una contraddizione cioè perché una cosa per essere di lusso deve essere di pochi no una cosa di successo per essere tale deve avere non avere un orizzonte di limite no ma questo non ce l'ha noi siamo stati come fondazione Bassetti in California per esempio un'alleanza con le avanguardie tecnologiche e con le nostre avanguardie di bellezza ci offrono una nicchia per tutto il mondo in cui le possibilità di espansione e le possibilità di qualità rimangono conciliate perché la tentazione prima lei diceva la forza di Milano è di aver scoperto il pret-à-porter non la haute couture no ma è chiaro che voglio dire lo spazio verso il basso del pret-à-porter è una dimensione che ci porterebbe diciamo alle falsificazioni di Witton per dire invece se noi lo proiettiamo al mondo al servizio del mondo come è stato il nostro rinascimento non c'è limite quantitativo no ecco questa è ora questo fatto che stamattina qui siamo riuniti intorno ad alta gamma no e secondo me è molto interessante perché questo mi sembra che il contributo di Ellis è stato fondamentale se alta gamma si offre come è nella sua nella sua organizzazione di tutti i tipi di eccellenze che vanno dalla Ferrari per dire l'ho sentito nominare come velocità mi pare una espressione felice no senza limiti di privilegio no ma come offerta di fecondazione del modo di produrre allora quel 36% che ho trovato interessantissimo di operatori creativi come caratterizza di Milano se gli si offre la prospettiva del mondo sono al limite una percentuale poca può diventare di più ecco questo mi sembra il punto questo a Milano prima ai tempi che lei ricordava non era mai avvenuto certo due difficoltà si vedono subito una è relativamente a questo discorso del branding no secondo me non va visto in modo schematico perché una città che poi non è una città in realtà è una local city che è la che è la dimensione dell'Italia anzi la dimensione del sud Europa no solo se ci viviamo così perché è chiaro che se ci viviamo come comune di Milano siamo una ma che nemmeno la bomboniera siamo il confetto dentro la bomboniera voglio dire quindi se noi ci rendiamo conto che siamo la nervatura relazionale la moda quando avete smesso di litigare con Firenze è stato un gran giorno perché evidentemente sarebbe assurdo che litigaste con Como e perché i mercializzatori di Como sono quelli che fanno i successi delle nostre sfidate quindi Milano non è una dimensione chiusa io so per costruire tutti i rapporti che per esempio la storia italiana non la considera nelle mura Milano è un nome è Midland ecco il suo branding non può essere restrittivo deve essere in qualche modo espansivo come lo è la mela non dimentichiamoci che la mela nasce dopo che New York ha conquistato lo spazio nel mondo che aveva e noi ci riconosciamo ma non è stata inventata la mela e poi New York si è fatta sulla mela così come non è stata la Tour Eiffel era un'esposizione internazionale che ha sopravvissuto l'Italia io mi auguro che l'Expo possa produrre qualcosa di analogo qualcosa che torna quindi io credo che se Milano voglio dire conquista e mantiene l'ha sempre avuta una dimensione di rapporti globali col mondo non col paese a noi ci ha fregato il risorgimento non c'è dubbio no? ecco quindi dobbiamo renderci conto che la nostra collocazione è nel mondo global ecco se valorizziamo la bellezza che è un valore assoluto ecco e che quindi non pone i limiti di quantità se troviamo le modalità organizzative per unirci in queste fasi Milano ha sempre espresso il meglio di sé nei momenti di combattimento voglio dire l'ultimo per dire la resistenza mai negli omaggi all'autorità no? ecco se noi riusciamo a fare questo e il mondo moderno organizzato sull'open source sul mercato come luogo di definizione degli obiettivi ce lo consente perché a differenza del rinascimento oggi noi non omaggiamo il principe che non abbiamo fortunatamente ma voglio dire ecco ma omaggiamo noi stessi e la nostra capacità di esprimerci quindi io alla sua domanda vabbè prima di crepare mi fa piacere constatare che tutto questo lavoro forse ha reso qualcosa però adesso la sfida è a mantenerlo questo qualcosa cioè a coglierla questa possibilità e questo credo che sarà molto difficile perché per esempio tutto il riassetto istituzionale questo non si può chiederlo al comune la catalizzazione bisogna chiederlo a una classe dirigente tutta da ricostruire ecco quindi io la mia risposta è grazie me ne vado ottimista grazie abbiamo pochissimi abbiamo pochissimi minuti perché poi c'è la parte della presentazione dei dati dell'osservatorio però volevo chiedere all'assessore Tajani e al presidente Illi se possono veramente in modo molto sintetico dire qualche cosa su che cosa accade adesso oltre a raccomandare al dottor Bassetti di ricandidarsi politicamente perché avremo molto bisogno io lascerei al presidente Illi diciamo identificare ed esplicitare i passaggi più tecnici diciamo di questo nostro percorso il metodo di lavoro che ci siamo dati le interlocuzioni con i soggetti esterni che abbiamo intrapreso mi limito a sottolineare che è sulla base di elementi diciamo strutturali che sono quelli che sono stati identificati prima cioè una realtà milanese italiana che è in grado di tenere insieme momento ideativo e momento produttivo che retroagiscono l'uno sull'altro e questo è uno diciamo dei grandi fattori di successo della dimensione del design italiano e di altri settori produttivi un sistema delle scuole un momento formativo che a Milano è ancora molto presente abbiamo le scuole di moda e di design che attirano ancora studenti internazionali da tutto il mondo sono un elemento di internazionalizzazione della città un momento della creatività quindi gli elementi diciamo strutturali ci sono quello che stiamo provando a fare è uno scatto diciamo un colpo di regni per reagire ad una situazione che probabilmente è al di sotto di quello che siamo in grado diciamo di produrre e di esprimere questo elemento di avanzamento si è dato dei momenti organizzativi concreti diciamo dei tavoli di confronto permanente dei progetti che hanno a che fare anche con il tema del rebranding della Milano creativa quindi diciamo della dimensione moda design food alto di gamma dei tempi stretti perché uno degli elementi che sono emersi è stata questa necessità di fare presto cioè che altre città ci contendevano un primato e che bisognava mostrare di essere in grado di reagire e di avere le istituzioni al fianco diciamo degli operatori dei produttori dei settori economici più trainanti quindi i tempi che ci siamo dati sono strettissimi li lascerei poi indicare al presidente Illy e una capacità però da parte anche nostra di tenere insieme non soltanto chi è più avanti sicuramente oggi sono rappresentati a questo tavolo il meglio della competitività dei settori produttivi italiani chi è in grado di agganciare le reti lunghe della competizione sui mercati globali noi dobbiamo essere in grado di tenere insieme questi attori più propulsivi quelli che corrono avanti che sono in grado di tirar fuori Milano e l'Italia diciamo dalla crisi con una dimensione del territorio della creatività diffusa di quello che succede nel fuorisalone della spontaneità io credo che il compito più difficile anche per le istituzioni è esattamente questo diciamo agganciare il territorio di Milano quello che è in grado di fare e offrire agli attori che corrono più avanti che hanno la capacità di competere dobbiamo supportare loro e dobbiamo fare diciamo squadra perché Milano può veramente tirare fuori il paese dalla crisi io ne sono convinta il sindaco ha detto in alcune circostanze Expo forse sarà il primo grande evento del post crisi questo è un obiettivo a cui noi stiamo lavorando anche con una rappresentazione di questi settori dentro Expo diciamo dentro il sito espositivo con dei momenti di lavoro serratissimi non anticipo diciamo il percorso che lascerei esplicitare al presidente Illy ma mi limito a dire che veramente siamo su diciamo un terreno nuovo di lavoro e di ragionamento che ci rende molto soddisfatti e siamo molto anche grati diciamo a chi oggi è presente qui per aver voluto intraprendere insieme a noi un percorso che io credo darà presto i suoi frutti grazie la roadmap la roadmap grazie assessore delle sue belle parole grazie agli amici e colleghi dei contributi che sicuramente sembrano tutti molto risonanti quindi il progetto di diciamo promozione di Milano sarà diviso in due parti pre-expo e post-expo il pre-expo non è qui rappresentato perché è un soggetto effimero nel senso che nel 2015 si scioglierà adeguatamente rappresenterebbe oggi diciamo la parte della tavola italiana e in futuro provvederemo ad avere degli rappresentanti che significa che Milano possa diventare anche capitale della tavola italiana nel pre-expo si perseguiranno importanti sinergie tra l'expo e il tessuto creativo della città e non solo è già stato organizzato un incontro la settimana scorsa il 22 di ottobre che ha visto la partecipazione di una cinquantina di imprese una quarantina di imprese assieme a l'autorità dell'expo Milano 2015 nonché della padiglione Italia che peraltro faceva padrone di casa con i saluti della Diana Bracco in questa collaborazione sono state individuate non meno di sei possibili ad intervento e quindi questo è un tema in cui simbiotico in cui l'expo potrà beneficiare della macchina promozionale della visibilità e dell'immagine dell'Italia del bello e al contempo contribuire in termini di visibilità visto l'importante investimento che viene fatto su quell'evento la fase del post expo ha un obiettivo un sogno è quello di far diventare Milano la più amata delle destinazioni dello shopping internazionale questo è un intervento che si fa con un pad de deux se vogliamo prima promuovere l'Italia come patria della bellezza e quindi attrarre turisti stranieri in Italia a visitare quelli che chiamiamo i luoghi di eccellenza nell'ambito di un programma che chiameremo Italian Style Itineraries ma non si può lasciare l'Italia senza aver visitato Milano per lo shopping la potenzialità di Milano come shopping destination è straordinaria io non sono milanese ma sono un viaggiatore internazionale da oltre vent'anni conosco praticamente tutto il mondo e vedo che gli altri shopping district delle altre città o sono piccoli o sono pieni di automobili oppure sono divisi ce ne sono più di uno nella stessa città ricongiungendo in una quartiere molto grande via Senato a Galleria Vittorio Emanuele con il perimetro di via Manzoni e Corso Vittorio Emanuele questo di Milano con anche un appendice importante in Brera diventerebbe la shopping district più bello e più importante tutto pedonale peraltro che ci c'è nel mondo e questa è la vision che proporremo e perseguiremo per gli anni a venire per il post expo questo darebbe anche molto lavoro al numero direi quasi esagerato ormai di hotel stellati che ci sono a Milano che difficilmente possono intercettare i visitatori della fiera già che la fiera si trova in periferia ormai quindi c'è anche un tema di sostenibilità di tutti i settori tra di loro ecco fa da cornice a questo programma di rilancio di Milano olistico come dicevo questo progetto di rebranding della città perché bisogna dare una cornice e quindi questo progetto di rebranding di cui abbiamo accennato in queste ore in questi giorni l'agenzia internazionale leader per il branding leader mondiale Future Brand che è partner di questa iniziativa sta conducendo non meno di 50 interviste alle eminenze grigie di Milano per riuscire a capire veramente fino in fondo la identità milanese sia dal punto di vista valoriale che dei contenuti che dal punto di vista iconografico e questo sarà il materiale di partenza per la messa a punto della proposta creativa verso metà novembre questo tavolo si incontrerà per valutare le proposte che saranno avanzate e ne sceglierà due che verranno presentate pubblicamente nella giornata del 5 di dicembre con la presenza del sindaco Bisapia successivamente si darà luogo al voto popolare e quindi è bene che ci sia quanta più visibilità possibile sul tessuto sociale della città affinché quanti più milanesi possibili poi online diano il voto a quale è la proposta creativa più apprezzata e verrà anche fatto durante lo stesso periodo il raccordo con tutti gli altri enti diciamo tutti gli altri soggetti che avranno modo di beneficiare e contribuire a questa ribranding di Milano al 5 di dicembre verrà anche presentato il funzionamento di questa partnership pubblico privata che avrà bisogno ovviamente di strumenti precisi e sostenibili per poter funzionare nonché di risorse ecco vi ringrazio non ho direi che spero di aver spiegato bene la roadmap credo che abbiamo abbiamo sollevato quantomeno curiosità e interesse oltre ovviamente adesso ad avere delle aspettative nei confronti del progetto quindi adesso l'avete l'avete offerto adesso dovete come si dice avete la bicicletta adesso bisogna bisogna pedalare sicuramente credo che Milano ne abbia la necessità di un ulteriore coordinamento rispetto già ai coordinamenti di tipo cooperativo che i settori che abbiamo qui rappresentato svolgono e passiamo adesso a vedere dal momento degli auspici dal momento dei progetti cosiddetti visionari invece i consuntivi della realtà grazie a tutti per l'attenzione e ai partecipanti grazie a tutti grazie a tutti